buongiorno e buonasera amici ascoltatori questo è il Muntolk programma che va in onda ogni settimana dallo studio appunto del Muntolk che è poi lo studio più freddo dell'universo con Andrea e Francesco in regia che saluto tra l'altro Francesco bardatissimo hai freddo ci sarà almeno 300 gradi qua sotto ragazzi questa è una testimonianza d'amore nei vostri confronti siamo qua ancora oggi per la rubrica Jurassic Parma quindi per parlare delle sorti di questo Parma calcio di questo nuovo Parma calcio che tanto ci sta facendo appassionare ecco parliamo subito della notizia che dà l'apertura a questa puntata infatti arriva la slide la puntata di oggi ha questa invocazione Guazzo scendi dalla croce e diventa delizia per i tifosi crociati infatti abbiamo avuto questa questa vignetta che ha fatto il mio amico Damiano che ormai è stato scritturato fa parte dello staff da una settimana questa parte degli autori esatto ha fatto questa questa vignetta in cui Guazzo scende dalla croce e ci porta una caramella quindi una delizia una delizia per per noi e per tutti insomma Guazzo che fino adesso è stata insomma la sorpresa forse più negativa di questo Parma è stato comprato perché doveva essere il bomber il fiore all'occhiello la ciliegina sulla torta di questa squadra e fino adesso ci ha fatto vedere solo tre giornate di squalifica e comunque prestazioni non certamente all'altezza del nome che si era fatto deve inserirsi al meglio ancora di Guazzo ricordiamo la sua storia con la Musetti non so magari forse ha un altro amore che lo distrae dal campo però con Antonella Musetti un'attrice molto molto bella la sorella del nostro Musetti immagino ecco potrebbe essere potrebbe essere in effetti comunque Guazzo che sta mancando l'appuntamento col gol ormai da quando è a Parma e del qua insomma abbiamo poche tracce insomma qualche piccola prestazione positiva una traversa una punizione tirata bene però manca il gol e manca la prestazione che trascini la squadra questo giocatore ci chiediamo è idoneo per la serie D Francesco secondo te è un giocatore idoneo per la serie D? Sì è idoneo deve un po' ambientarsi però tutti gli altri sono ambientati manca solo lui ma gli altri erano già lì da un po' da un mese in più praticamente da un mese in più domenica può essere veramente la partita del riscatto per lui Francesco beh deve riscattarsi deve se non dovesse succedere sarà messo fuori rosa ma no è impossibile perché ha un'importanza particolare naturalmente Guazzo adesso quindi è obbligato perché Musetti domenica questa domenica domenica scorsa ha deluso fortemente quindi si va verso una presenza titolare di Guazzo nella partita di domenica prossima contro il Delta Rovigo e quindi lui è chiamato veramente a salvare la squadra a far vincere la squadra e Guazzo insomma che fino adesso non ha mai convinto io credo in lui tu credi in lui quindi bisogna il giocatore alla mentalità da Parma questo non lo so non ci ho mai parlato nelle varie interviste ha detto e io comunque sono venuto qua per fare bene l'anno prossimo cioè sembrava quasi che non fosse calato nella realtà della serie D è una cosa possibile secondo te oppure un professionista non fa questi errori ma sì adesso ci vorrà un po' più di tempo ma insomma l'impegno ce lo mette quello che ho visto fino adesso poi un tiro fuori per un tiro fuori non si è mai ammazzato nessuno però non ha mai segnato fino ad adesso e vabbè non è che puoi sperare che faccia su tutti non si chiama Messi ok e quindi secondo te quindi farà bene lo aspettiamo e domenica farà bene una scommessa tramite quanti gol farà Guazzo domenica basta uno in più degli avversari poi ok quindi se gli avversari fanno fanno zero gol ne farà uno ok parliamo adesso invece di quella che è stata la partita di domenica scorsa ovvero Parma contro Imolese calcio partita che alla vigilia avevo detto sarà una passeggiata Limolese in crisi di uomini ha perso due partite di fila invece no invece no ha dominato praticamente ha avuto in pugno il gioco per tutti i 90 minuti il Parma faceva comunque il gioco ma Limonese aveva perfettamente la situazione nella Redini perché lasciava sfogare Parma e poi ripartiva senza mai rischiare più di tanto incassare i colpi sì esatto insomma è una partita strana una partita che forse doveva essere studiata meglio dal Parma una partita in cui Limolese quasi come la grande ritirata russa a certi punti in certi ambiti in certi sprazi di gioco si ritirava nella propria metà campo le steppe sì esatto però lasciava terra bruciata perché i giocatori attaccanti del Parma non riuscivano mai utilizzare questo spazio che veniva concesso in maniera veramente pericolosa perché Limolese si chiudeva tutta nella propria tre quarti e quindi era difficile veramente scardinare gli avversari ormai non capito il nostro gioco e pian piano ci stanno esatto e mi ha sorpreso soprattutto l'intelligenza tattica del Limolese e mister Paiuca ha veramente sorpreso infatti abbiamo fatto una bellissima slide in cui Paiuca para il Parma perché questo mister è molto più magari con un nome meno altisonante cioè il nome altisonante ma non sicuramente riferito a lui di Apolloni è riuscito veramente a dargli lezioni di tattica perché ha fatto quello che voleva in questa partita c'è da dire tra l'altro le sue urla si sentivano in tutta Parma praticamente è forse la persona che urla più forte in assoluto comunque una grandissima preparazione tattica una squadra veramente molto attenta a cui vanno i miei complimenti perché credo sia la squadra migliore che ho visto giocare contro il Parma fino ad adesso un allenatore che urla è un allenatore bravo a me che urlano a quelli che ti piacciono ti piacciono a deludere non è stato solo il reparto offensivo del Parma ma tutta la manovra offensiva del Parma che parte appunto dai difensori non c'è stata un'idea di gioco originale insomma gli attaccanti erano fermi si scambiavano poco di posizione quando si scambiavano di posizione sembrava quasi che quelli sorpresi fossero gli stessi giocatori della propria squadra non quelli avversari dico cavolo io te lo devo passare lì sei andato di là cosa è successo insomma non andava bene tra l'altro il grande interrogativo del Parma è sempre perché sulla fascia destra si attacca sempre sulla sinistra non si attacca mai è una scelta tattica ma se non so chi giocava sulle destra sulla sinistra se me lo dici ti posso dare una giustificazione tattica sulla destra giocava Messina e Lauria sulla sinistra giocava Vignali e Agrifogli ho detto loro ce lo ricordo ovviamente e giocavano sempre sulla destra no sulla sinistra sulla sinistra Vignali e Agrifogli sulla destra Messina e Lauria ti ricordo Lauria è molto più bravo a concludere diciamo quindi magari non lo so sì però comunque qualsiasi siano i giocatori che vengono impiegati c'era uno scarso dalla destra loro probabilmente così però è una cosa strana perché tutte le partite che ho visto del Parma fino ad adesso qualsiasi siano gli interpreti il Parma attacca sempre e solo dalla destra non so se è una scelta da Poloni a questo punto o comunque una mancanza tecnica dei nostri giocatori che giocano sulla sinistra ma dubito a questo punto è veramente strano ma sarà il caso della partita ma tutto fino ad adesso ma non è vero vabbè qualcuno ha detto per esempio che le sorti del campionato sono già scritte che comunque il Parma vincerà questo campionato certo che però se il Parma gioca così il Parma sfida la sorte e ce la mette tutta per non vincerlo non bisogna darsi per vincitori mai darsi per vincitori soprattutto vabbè ok magari i tifosi possono anche illudarsi ma i calciatori testa devono rimanere concentrati sul sul campo sono ancora più di 20 partite e quindi bisogna c'è ancora finito insomma c'è da lavorare e sempre completando questa quella di complimenti verso limolese devo dire che è stata la prima squadra ad aver avuto una tenuta atletica incredibile infatti dal primo all'ultimo minuto hanno corso come il Parma se non di più sono stati veramente una bella formazione mi hanno veramente sorpreso in maniera incredibile e formazione che adesso non so che come finirà in campionato ma sono sicuro che si continuerà così regalerà delle sorprese e Parma invece che sarà sicuramente chiamato a rilanciarsi perché alcune prestazioni sono state totalmente negative poi stiamo commentando uno 0 a 0 quindi c'è chi dice comunque quando giochi male fai 0 a 0 è comunque un buon segno però insomma finché non si prende gol va sempre bene quindi secondo te comunque è una nota positiva il fatto che ok la difesa è il reparto migliore da quel che possiamo constatare passiamo adesso alla criticatissima tabella dei top e flop ah guarda non ti critico niente non mi critichi niente ok nella tabella dei top mettiamo come primo Christoph Zommers perché ha salvato il risultato in più occasioni infatti limolese ripartiva in maniera molto pericolosa e ci sono state minimo tre parate di Zommers che hanno salvato il risultato e quindi è un portiere che veramente mi sta favorevolmente impressionando ha delle doti veramente notevoli e per la sua età insomma ha un'autorità in area veramente fantastica sa usare i piedi bene e ha un buon istinto nell'indovinare traiettori dei palloni ha delle capacità veramente importanti e spero che per essere un giocatore di serie d comunque ma no ma secondo me è anche superiore la categoria perché per giocare in serie d lui cioè è un lusso sì sì è veramente un lusso è sicuramente un lusso e speriamo insomma di portarcelo avanti anche nelle se mai arriveremmo nei piani alti del calcio italiano fabio laurea secondo top abbiamo detto che l'attacco non ha convinto l'unica persona che mi ha convinto oggi è stato fabio laurea che veramente è stato un instancabile ha corso tutta la partita ha stimolato i compagni ha tentato il dribbling ha tentato i cross non gli ha riusciti ovviamente non tutto gli può riuscire ma comunque un uomo che ci ha provato fino in fondo va comunque premiato e quindi a lui la seconda classifica la seconda posizione nei top terza e ultima ultimo gradino del podio va Alessandro Lucarelli che vogliamo premiare per oltre alle 250 presenze incrociato per la prestazione particolarmente ispirata di domenica in cui ha convinto facendo veramente interventi che gli vedevo fare due anni fa quando il Parma lottava per le posizioni per Europa League ovviamente ok la serie D non è la serie A comunque ha fatto dei buonissimi interventi grande autorità come al solito ma comunque si vede che era particolarmente voglioso di far bene in questa partita ma lui la sentirà la differenza di categoria? secondo me una volta che giochi non ci pensi però durante la settimana durante gli allenamenti sicuramente sì però magari la tensione è anche minore durante la partita non lo so perché comunque una partita è sempre una partita e non credo che l'avversario magari si può mettere più attenzione ma la tensione agonistica è quella perdere una palla da ultimo uomo è gol al 99% in serie D magari ci sono più errori è vero da questo punto di vista può essere passiamo alla classifica dei flop in cima Riccardo Musetti che ha deluso tantissimo con mio grande dolore perché nelle ultime partite invece ha giocato molto bene ed ero molto contento delle sue prestazioni ha deluso alla stragrande in questa partita non è mai stato presente nel primo tempo anzi mi chiedevo se fosse in campo perché sembrava veramente che il Parma giocasse in 10 addirittura nel gioco di scambio di posizione con Baraje si vede che quando lui fa la seconda punta è totalmente fuori ruolo insomma avulso dal gioco non mi è veramente piaciuto comunque una giornata storta può capitare ecco non è sicuramente una bocciatura definitiva secondo flop Walter Rodriguez molti passaggi sbagliati si vedeva che è un giocatore che non ha i 90 minuti magari nelle gambe non è abituato al ritmo partita perché non gioca tantissime partite in questa squadra in questo campionato e quindi insomma ha avuto un po' di disattenzioni alcuni passaggi sbagliati che potevano essere pericolosi non ci è piaciuto ma sicuramente ha le qualità per fare meglio Isbaraje terzo flop non tanto per la prestazione che vabbè è un 6 meno per quanto mi riguarda ma comunque per una certa angoscia che ho notato da parte sua nel cercare la soluzione sembra quasi che sia un po' sconfortato dal fatto che non sta segnando e che soffra questa cosa lui come sa di essere il più forte il più talentuoso sicuramente che può fare la differenza quindi ovvio che se sei sicuro di questa cosa cerchi anche la giocata singolare insomma cerchi di giocare da solo in questa partita si è visto un po' sofferente quasi come se dicesse cavolo è un po' che non segno questa volta non mi voglio mettere troppo a servizio della squadra ma voglio cercare la gloria personale in certi attimi è stato tagliato fuori dal gioco però comunque è il punto fondamentale nell'attacco del Parma è l'unico punto fermo che vorrei sempre vedere giocare in quest'anno assolutamente detto questo passiamo subito alla partita di domenica prossima contro il Delta Rovigo Delta Rovigo è la società ecco esatto è arrivata anche la slide è la società del discussissimo Bomber Pera Bomber Pera che possiamo trovare nella successiva slide in un suo selfie è un uomo del popolo come noi è un uomo del popolo tra l'altro capo canoniere di questo campionato con 12 gol un ragazzo che è sempre stato abituato a segnare in serie D spesso campo canoniere spesso in doppia cifra un fenomeno di questa categoria quest'anno purtroppo il Delta Rovigo non sta facendo come voleva forse come aveva previsto di fare in campionato perché insomma non è nelle posizioni più alte però sta rimontando sta recuperando alla grande sta recuperando grazie a quest'uomo è quinto e ha 11 punti di distanza dal Parma esatto trascinato da Manuel Pera potrebbe essere veramente pericoloso l'incontro di domenica Delta Rovigo che ha appena vinto 4-0 contro il Romagna Centro in Coppa Italia proprio oggi nel momento in cui metto la pagina prima perché aveva delle faccioni di Pera era bello però questo qui era un selfie che ho preso dalla sua pagina Facebook e l'aveva fatta sopra un pilone dello stadio si vedeva lui e un suo amico e sotto si vedeva il campo da gioco la semplicità della serie D è bello questa cosa si era arrampicata non so per che motivo quindi insomma una partita da prendere con le molle perché l'adversario è molto forte per la categoria ovviamente e sicuramente sarà super voglioso di riscattare la prestazione magra di questo campionato e di regalare quindi un senso a questo campionato magari essendo la prima squadra che batte il Parma io mi immagino insomma anche il Toro Vigo sicuramente adesso non sta pensando a vincere il campionato sta pensando ad arrivare in zona playoff quindi una sconfitta contro il Parma ci potrebbe anche stare non sarebbe un dramma per loro giocheranno sicuramente a mille e vogliosi di fare bene è una partita particolare questa secondo me attenzione potrebbe risultare una partita molto divertente però la squadra che ha qualcosa da perdere è Parma in questa partita beh come tutte le partite beh ma quanto giochi contro altre squadre che giocano per salvarsi per non retrocedere insomma sono situazioni particolari qui invece insomma la squadra vuole sicuramente fare bene e il Parma deve sicuramente vincere per riscattare la precedente prestazione ok ma come facciamo ad andare a Rovigo quindi ehi tu se vuoi andare a Rovigo allo stadio Francesco Gabrielli il biglietto costerà 11,50 euro in prevendita non so se si vede ho fatto uno screen dal sito Le Parma comunque ve lo dico io costa 10 euro più 1,50 euro di prevendita il Delta Rovigo dice che è consigliabile acquistare la prevendita e non recarsi direttamente allo stadio perché non c'è la garanzia di trovare quindi i posti i posti comunque sono 600 quindi per arrivare il Delta Rovigo è vicino a Ferrara insomma si aspetta comunque un quasi tutto esaurito però magari nonostante il freddo nonostante il freddo esatto magari qualche posto per il freddo e per la distanza lo puoi trovare cosa sta succedendo? è crollato la finestra ok il Delta Rovigo l'anno scorso arrivò secondo mancò la promozione per un soffio e quest'anno vediamo cosa farà come finirà comunque è una formazione molto temibile per acquistare le prevendite sono disponibili giovedì 26 venerdì 27 e sabato giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12 per se volete la prevendita potete andare nel solito posto davanti al Tardini chiedere oh voglio dei biglietti c'era sicuramente il bagarino no insomma ci sono strumenti legali a prova di bomba questo è tutto un veloce pronostico Francesco come finisce domenica? domenica è difficile sarà una partita divertente sicuramente sarà una partita divertente domenica sicuramente ma la difesa migliore vincerà quindi? è l'unica sicurezza se dovessi dire un risultato facciamo una scommessa tra me te dai 1 a 0 1 a 0 per il Parma? sì siccome invece è un 3 a 2 per il Parma dai boom no no secondo me è 3 a 2 sarà una partita divertente ok questo è tutto passate una buona settimana e fate fate i bravi fate i bravi andiamo a cambiare slogan quello sarà il nuovo slogan ci penseremo solo lo diremo nella prossima puntata ciao ciao No, I don't think so am I what I was supposed to No, I don't think so am I what I was supposed to